Salve, io sono Jacopo in Artefralapo ed oggi ti mostrerò come installare Windows 11 sul tuo Raspberry. Abbiamo bisogno di una scheda micro SD e un disco USB. Io utilizzerò un SSD con l'apposito adattatore. Iniziamo installando il sistema operativo proprietario del Raspberry sulla scheda SD. Ora avvia il dispositivo e digita i seguenti comandi per dare priorità al boot da questo video. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Adesso per procedere all'installazione di Windows 11 dobbiamo installare pApps per poi installare il tool per Windows 11. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seleziona Windows 11 e la versione della Raspberry. Grazie a tutti. 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 Adesso puoi procedere con l'installazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.